Erano 24 i punti all'ordine del giorno nel Consiglio Comunale riunitosi questa mattina, tra i quali il concorso dei vigili urbani, la condizione delle ausiliare del Consorzio Tesis che si occupano delle pulizie negli asili nido, la condizione dei tassisti tarantini, il sostegno all'università e alla formazione, il potenziamento della raccolta differenziata e l'approvazione, con 23 voti favorevoli, di una proposta di promozione di ogni azione volta all'individuazione e alla rimozione delle cause che stanno bloccando i progetti Agromed e DistriPark. Ma l'attesa era per l'approvazione della variante al piano regolatore portuale che negherebbe le opere a Tempa Rossa. Con un ordine del giorno il Consiglio Comunale all'unanimità ha espresso parere negativo contro Tempa Rossa. Nel frattempo io, forte di questo mandato e soprattutto aggiungendo convincimenti personali legati alla mia professione di medico, ho portato questi argomenti nelle sede istituzionali. Quindi questa è una risposta a chi mi lanta nei miei confronti posizioni equivoche, posizioni di malgestione del problema. Io ho rappresentato quelle che erano le indicazioni politiche, ma ne ero convinto e ho aggiunto del mio proprio perché mi occupo di scienza medica. Io mi auguro che questa giornata di oggi passi alla storia come la giornata in cui il Consiglio Comunale, cioè la politica di Taranto, dia una risposta secca in rappresentanza dei cittadini a quelle violenze che abbiamo subito in tema ambientale da 50 anni a sé a parte. Penso di avere il termometro scientifico per aver verificato negli anni, e lo verifico tutt'oggi, quello che è il rapporto tra l'inquinamento e l'insorgenza di patologie. E quindi ho il dovere morale di passare un testimone nobile alla città di Taranto. Perché no a Tempa Rossa? Perché il progetto Tempa Rossa porta 3 milioni di tonnellate di greggio in questa città, in particolare al modo per il porto. Praticamente ipoteca in maniera negativa un futuro diverso per la città di Taranto. Oltre ai rischi ambientali, i rischi di incidente, vediamo quello che è successo a Milazzo in Sicilia con l'esplosione che ha creato non pochi problemi nella raffineria. Insomma, il futuro di Taranto non può essere un futuro di veleni. L'aula è sovrana, vedremo le legittime votazioni di ogni consigliere. Mi aspetto un dibattito sull'argomento, se facciamo riferimento a quello relativo al piano regolatore per il porto. È un tema abbastanza discusso, molto importante per la città, per lo sviluppo della città, per lo sviluppo di alcune economie. Dobbiamo aspettare un po' per vedere quello che succede. Su Tempa Rossa il Consiglio Comunale per ben due volte è l'aggiunta con due atti di consiglio, e una delibera di giunta hanno già definito questa questione, nel senso che il no a Tempa Rossa è netto.